Alla Commissione Bilancio della Camera si inizia a lavorare concretamente sul Decreto Legge 73, il cosiddetto sostegni bis. Questa settimana sono previste due sedute, una martedì 15 e una mercoledì 16. Non sono però ancora in programma votazioni, contrariamente a quanto preannunciato nei giorni scorsi. In altre parole, queste due prime sedute saranno dedicate semplicemente alla presentazione del provvedimento sul quale si inizierà a discutere a partire dalla prossima settimana. Tutte le disposizioni in materia scolastica, come abbiamo già avuto modo di dire diverse volte, sono contenute negli articoli 58 e 59. Alcune sono destinate ad essere modificate anche perché le stesse forze di maggioranza hanno già presentato emendamenti in tal senso. Per esempio, cambierà certamente la norma che prevede l'impossibilità di partecipare al concorso successivo nel caso di mancato superamento delle prove di quello precedente. Su altri temi la situazione appare molto complicata, come si può comprendere leggendo le dichiarazioni del senatore della Lega, Mario Pittoni, che per inciso ricorda che proprio su questo tema il Parlamento ha una buona occasione per imporsi al governo. L'obiettivo del Ministero di garantire tutti gli insegnanti in cattedra a settembre, sostiene Pittoni, diventa infatti una missione quasi impossibile col provvedimento attualmente all'esame del Parlamento. Secondo Pittoni, per rimettere ordine nel sistema scolastico servirebbero almeno 120.000 assunzioni, ma sempre, secondo il senatore leghista, questo obiettivo non si potrà raggiungere a causa dei veti del Movimento 5 Stelle. Si potrebbero però limitare i danni, dice sempre Pittoni, assumendo fino a 70-80.000 insegnanti su posti vacanti e disponibili, se dovesse passare l'emendamento che estende alla seconda fascia l'accesso al ruolo, aggiungendo anche chi è in prima fascia senza i tre anni canonici di servizio, ma è fornito di titoli particolari come per esempio la specializzazione sul sostegno. Si tratta in pratica delle stesse richieste dei sindacati che sono scesi in piazza mercoledì 9 giugno. Sindacati che, per la verità, nel corso della manifestazione hanno posto con forza anche il problema del contratto nazionale di lavoro. In proposito, va detto che nei giorni scorsi il Ministero della Funzione Pubblica Renato Brunetta ha lasciato intendere che i ritardi nell'avvio della trattativa per il contratto scuola sarebbero dovuti esclusivamente al Ministero dell'Istruzione. Per le funzioni centrali, ha detto infatti Brunetta, l'Aran è già pronta a convocare i sindacati. Per la scuola questo non è possibile perché il Ministro Bianchi non ha ancora provveduto a firmare l'atto di indirizzo. E bisogna aggiungere la novità dell'ultima ora. I cinque sindacati promotori della manifestazione del 9 giugno, tutti i rappresentativi ad esclusione della Gilda, sono usciti nella mattinata di lunedì con un comunicato nel quale dichiarano di sostenere la protesta dei precari in programma per martedì 15 giugno. L'appello lanciato dalle associazioni e dai movimenti è condivisibile, affermano i sindacati, in quanto punta a unire tutti i lavoratori precari a prescindere dalle diverse condizioni che le loro vite lavorative attraversano. E come sindacati continueremo nei prossimi giorni a sostenere questa importante battaglia contro la precarietà e per migliorare la nostra scuola. Il tema ovviamente di grande attualità, non c'è bisogno di dirlo, quindi noi continueremo a tenervi informati su questo argomento, sia su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Quindi continuate a seguirci e soprattutto continuate a scriverci, a mandarci i vostri commenti, le vostre osservazioni, le vostre lettere, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.